Buongiorno a tutti, oggi andiamo a parlare sia di Serie A, di Playoff, di Serie B e stasera ci sarà veramente una grandissima finale tra l'Atalanta e l'Everkusen. Veramente una finale che secondo me deciderà anche la stagione di questa Atalanta, veramente che realizza tutti dei sogni ai propri tifosi, regala veramente una stagione da Dio, un'Atalanta che si qualifica ancora una volta in Champions League, un'Atalanta che secondo me dovrebbe portare a casa almeno un trofeo in questa stagione per scrivere soprattutto la storia in questa società, una società veramente seria che con il capo Gasperini che veramente valorizza tantissimi giocatori, secondo me può andare avanti, secondo me questo progetto di Gasperini si andrà a completare solo con la conquista dei trofei che merita questa Atalanta, peccato per la Coppa Italia perché veramente era un trofeo molto importante questa Atalanta e anche la prima finale di Europa League secondo me deve fare tutto in modo di portarsi a casa questo trofeo anche se è difficile contro questo Leverkusen che ancora non ha perso una partita. Ancora una persona partita con il capo Xabi Alonso che ha vinto tutto dal giocatore e che vuole vincere l'allenatore tutto, ha vinto già la Bundesliga, ha vinto veramente in finale di Europa League, è veramente una squadra che secondo me il prossimo anno in Champions League fa veramente tremare e potrà dare filo da torce soprattutto anche alle big. Prima di parlare di questa finale volevo invitarvi sempre a iscrivervi al canale, lasciare un like, attivare la campagna e se ne aggiungono dei contenuti. Parliamo di Serie A, parliamo di due cose che veramente mi sono commosso, è stato tutto l'addio di Ranieri nel calcio come allenatore ma anche l'addio anche al Caiari perché dopo la promozione in Serie A e la salvezza in Serie A Allegri chiude il suo cerchio e quindi vuole lasciare in bellezza a una certa età. Una Serie A dove abbiamo visto l'Inter che è in completa rivoluzione, abbiamo visto che passa in un'altra società americana, una società che aveva come pegno l'Inter in caso di non pagamento in quanto riguarda Zang, quindi Zang perde l'Inter automaticamente, finisce l'area di Zang, l'Inter di Oaktri che è veramente una società americana che aveva aspettato dei soldi da tutta la parte di Zang, Zang non ha rispettato le date di pagamento e quindi come pegno aveva dato come garanzia l'Inter, quindi l'Inter automaticamente diventa una società americana, una società dove con l'era di Zang ha portato sette trofei, tra cui due scudetti, una società che passa da questa società americana, quindi l'Inter passa in mano agli americani e andremo a vedere tutto in estate come si evolverà tutto il calcio mercato, se alcuni giocatori andranno sul quanto riguarda il rinnovo oppure lasceranno tutto la maia nera azzurra, oltre all'Inter che festeggia anche lo scudetto, festa a San Siro, veramente bellissima per quanto riguarda la presentazione dei giocatori, veramente una stagione dove merita automaticamente questo scudetto, parlo da tifoso del calcio, ma oltre a questa andiamo a vedere anche la classifica della Serie A che veramente si è messa in una situazione strana, parliamo anche di classifica della Sanitana, la cosa che non mi è piaciuta tanto è stato tutto quello di attaccare tutto Candreva, che secondo me è stato l'unico giocatore che teneva questa maglia, è che cerca tutto il modo di salvare questa maglia, a oltre a Sanitana retrocede automaticamente il Sassuolo perché perde contro il Caia per 2 a 0, e con la vittoria del Frosinone per 1 a 0 e il pareggio dell'Udinese, automaticamente il Sassuolo retrocede senza la B, un Sassuolo che secondo me poteva fare anche di più, il Sassuolo e Sanitana dalla stagione che hanno presentato, soprattutto secondo me hanno dimostrato di non essere tutto all'altezza di questa Serie A, come vedete le qualificate in Champions League sono Atalanta, Juventus, Bologna, Milan e Inter, in caso di vittoria dell'Atalanta una tra Roma e Lazio potrebbe andare in Champions League, e automaticamente in caso di vittoria della Fiorentina in Conference League, in finale una tra Torino o Napoli, vedendo l'ultima giornata cosa faranno le due squadre, potrebbe anche andare in Conference League, quindi sarebbero ben nove le squadre che potrebbero andare in Conference League, e in Europa a giocare in competizioni europee, e quindi potrebbe essere veramente un ottimo traguardo per quanto riguarda il paese italiano. Oltre a questo voglio parlare del Palermo, un Palermo che ha vinto 2 a 0 contro la Samp, passato il turno e ora si trova in questa semifinale, andare in ritorno, dove abbiamo visto la differenza che vince 1 a 0 contro questo Palermo, dove c'è l'infortunio del portiere, un infortunio veramente brutto, perché ho visto veramente che è entrato in partita, è entrato veramente in partita, e quindi potrebbe farcela, potrebbe farcela perché al ritorno basta vincere 2 a 0 e chiudere la situazione, come avete visto, Catanzaro e Cremonese fare il giorno 2 a 2, quindi tutto aperto, tutto questo seminario di semifinale di playoff, dove il Palermo giocherà il 24, giocherà veramente una partita importante, che è la semifinale di ritorno. Oltre a questo c'è anche il 25 maggio, che giocherà il Cremonese e il Catanzaro, un Palermo che ho visto veramente voglioso, ma che si è fatto tutto sorprendere in quella situazione, dove il giocatore del Venezia ha trovato un grandissimo gol, il Palermo che ci ha provato più una volta, ma ha spiegato tanto, secondo me deve migliorare soprattutto l'aspetto nel concretizzare su tutto davanti la porta, un Palermo che mi aspetta di più nel tutto il ritorno e spero che ce la mettano tutta, a di là del risultato, come andrà a finire, se riusciamo a passare, se non riusciamo a passare, l'importante è che si vede tutto un Palermo, che ci vede fino in fondo, che sarà il gioco delle carte fino in fondo e che secondo me deve portare fino in fondo, soprattutto questo nome, questo stemma che ha sulla maglia, oltre a Palermo parliamo di Milan, Milan veramente si sta parlando tanto di calciomercato, abbiamo visto la sconfitta del 3-1, veramente inguardabile, un Milan che va alla ricerca allenatore, si parla di Fonseca, ma al 99% sarà l'allenatore che Moncada vuole, preferisce tutta la panchina del Milan, le sono di Piolo sicuro, ma ci sono ancora altre trattative, quindi ancora non è sicuro il 100% che sarà Fonseca, allenatore del Milan, oltre all'allenatore si parla anche di altri giocatori, come Emerson Royal, altri giocatori come Zissé, Sesco, che sono giocatori veramente di grande prospettiva, che possono fare bene in questo Milan, e che possono veramente dare una grandissima mano a questa società, che veramente ha bisogno di vincere, ha bisogno di portare a casa dei trofei, cosa che è cardinale, non gli interessa affatto, gli interessa soltanto il business, il business che deve portare, il profitto che deve fare in questa società, visto che l'ha acquistato da lui, e dopo di questo il suo obiettivo è quello di fare lo stadio, se riuscirà a farlo, e di vendere su tutta la società, e guadagnarci e farci anche del bel profitto. Questo è tutto l'obiettivo di Cardinale, non è l'obiettivo di prendere il Milan, e creare un gruppo veramente unito, e buono di giocatori, una grande rosa, profonda, per tentare di vincere dei trofei, cosa che nel passato il Milan è abituato a vincere, quindi fate rispetto ai suoi commenti cosa ne pensate, questo è un piccolo recap, ma anche un piccolo sfogo, per quanto riguarda la situazione che si sta avvenendo, soprattutto sia in serie A, in serie B, ma anche in calcio mercato, perché parliamo di Fonseca, che arriverà nella panchina di Milan, e che secondo me non è un allenatore ideale, per, poi andremo a vedere se dimostrerà il contrario, spero che dimostri il contrario, ma in questo momento non è un allenatore ideale, per una squadra come Milan, per iniziare a portare il gap allo stesso livello, perché però c'è un enorme gap tra il Milan e l'Inter, che è grandissimo, e l'Inter è veramente una squadra solida, profonda, che ogni anno cerca degli ottimi giocatori, come avevo visto, arriva la Zielinski, i Taremi, giocatori veramente che possono dare grandissime esperienze a queste squadre, e che nel Milan, oltre a riscattare l'Atalanta, De Catteliere, che è sicuramente un ottimo bottino, che porteremo a casa, e che dobbiamo utilizzare automaticamente il nostro mercato, ci vediamo al prossimo video, di nuove news, cercherò di portare anche dei short, e quanto riguarda, soprattutto news di calcio mercato, ma oltre a questo, anche news di quanto riguarda stasera, che vedremo come l'Atalanta andrà a finire, rifiamo sempre a squadra italiana, quindi, io stasera, bisogna rifare l'Atalanta, per portare, riuscire a portare, almeno nove squadre, nelle competizioni europee, bene ragazzi!